Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC auto inclusi. Scopri l'offerta. Una strada un po' disastrata. Troppo disastrata, troppo disastrata. E' stata segnalata al comune, qua trebrano tutte le case. Quanto passano i autotreni, qua passano... Sta passando il pullman adesso l'auto. Se è salito sopra da me, c'è mente armato, febbra, febbra, tutte le case, tutte le corti. Quando è stata fatta la ricostruzione a zero, poi è stata fatta il centro storico, dopo aver fatto la ricostruzione, perché se fosse stata fatta prima, aveva un'incentivazione maggiore. Capite? E quindi la strada pure con la broca. Certo, c'è in alto una discussione. Loro ritengono, dicono, ma proprio scientificamente, che a partire all'ANAS, l'ANAS ceduta alla provincia, la SS88, invece non è vero sia l'ANAS, la SS88, sia provinciale, sia statale. Quando attraverso un comune, è tenuto il comune di Avellino. E nessuno però interviene, insomma, sarà fuori dell'ANAS, però comunque è un problema. No, nessuno, nessuno, è tutto qua. Bellizia è ferma, bellizia è una frazione storica, l'unica frazione storica, praticamente, che è rimasta a zero. E ballano quando passano i camion, perché si mettono sotto sotto, perché noi che prendiamo i buchi che stanno in mezzo a via, e si mettono sotto i casi, e allora la tremo a casa. Ma questa lesione, quindi, è stata provocata dal movimento di qualche mezzo? È per i mezzi che passano. Voi avete segnalato questo disagio? Ma che ho detto, ma che ho detto, il quarto non c'è nessuno, non c'è nessuno, non si interessa nessuno di bellezze. E' rimasta isolata come frazione? In frazione non c'è nessuno, non c'è una cosa un colpo comune, non puoi ricorrere, ti mandano una carta, non sai a chi ha dei favorini, come un anno d'oltre, hanno fatto tutto scassato. Siete stati abbandonati? Questi qua non c'è nessuno di ciura a fare bellezza. E voi siete pure preoccupati, perché le calze ballano? E ballano, ma dispiace che non vi passano i mezzi pesanti per i favorini.